Musica Terzo anno di Sciabaca, secondo anno a Soveria, anche quest'anno il festival propone appuntamenti di cultura, letteratura, arte, musica nel segno appunto della tradizione del festival. Da segnalare tra i vari appuntamenti anche la presentazione del nuovo libro di Ettore Cassagna 13 gol della bandierina con la partecipazione di Massimo Palanca e con il romanzo di Sonia Serazzi nella giornata conclusiva un romanzo che sta riscuotendo un discreto successo di critica. Sciabaca si pone l'obiettivo di appunto come la rete dei pescatori di mettere in relazione popoli, culture, tradizioni e anche questo è l'obiettivo della casa editrice Rubettino con questa manifestazione. Grazie Grazie Grazie